Signora Westwood, quando ha visto per la prima volta Rigoletto, che cosa ha pensato i soliti italiani, il duca di Mantova, il solito sciupafemmene italiano? In Inghilterra non c'è l'equivalente di questo, ma è una cosa famosa con Cassanova, eccetera. Sgarbi, secondo lei a chi somiglia di più, a Rigoletto, al duca di Mantova o a Sparafucili? Lui anche non lo conosco molto, ma duca di Mantova, Sparafucili o Rigoletto, ah sì perché non ha un buon posto, è così lui, è così. Gli italiani credono alla fortuna e ogni tanto toccano la gobba perché pare che porti bene. Ah sì? Lei crede alla fortuna? No. Una donna inglese potrebbe essere un'eroina del melodramma? Io non sono gelosa.